La filiera del traffico dello stupefacente dall'Albania alla Puglia non sarebbe mai stata interrotta perché effettuata in piena sicurezza. Ci sono infatti anche un procuratore della Repubblica, un amministratore pubblico, tre funzionari di polizia e due agenti della scorta di un ex ministro dell'interno albanese tra le 38 persone arrestate nell'ambito dell'operazione Spirti della Polizia Albanese in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia Italiana su un presunto narcotraffico tra l'Albania e l'Italia. I pubblici ufficiali albanesi hanno spiegato gli inquirenti della Procura di Tirana e della DDA barese in alcuni casi erano anche proprietari della droga e sono accusati di aver garantito sia a terra che in mare in Albania che la spedizione dello stupefacente destinato alle coste pugliesi fosse effettuato in piena sicurezza. I fatti contestati risalgono agli anni 2014-2017. In tre anni di indagini congiunte tra il 2019 e il 2021 sotto il coordinamento di Eurojust sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico di 38 cittadini albanesi appartenenti a quattro potenti gruppi criminali organizzati risultati in contatto con soggetti contigui alle organizzazioni criminali baresi in grado di spedire in Europa prodando in Puglia ingentissimi quantitativi di sostanza stupefacente. L'inchiesta ha consentito di accertare fenomeni di riciclaggio e corruzione da parte dei funzionari pubblici albanesi, soprattutto poliziotti, che avrebbero garantito che la filiera dello stupefacente non fosse mai interrotta, nonché di ricostruire la filiera stessa, dalla coltivazione alla produzione, fino alla raccolta, stoccaggio e spedizione verso le coste pugliesi a bordo di potentissimi gommoni oceanici. Gli arresti sono stati eseguiti in cinque città albanesi, in Italia, nella provincia di Bari, in Spagna, a sud di Barcellona e in Montenegro. Contestualmente agli arresti sono stati eseguiti i sequestri di beni mobili e immobili del valore di circa 3 milioni di euro. Quattro società operanti nel settore turistico alberghiero, un'auto di grossa cilindrata, 11 proprietà immobiliari tra appartamenti, ristoranti e ville e un terreno edificabile di circa 5.000 metri quadri in una località marittima.